Ogni giorno si possono scoprire nuovi spazi che non credevamo potessero esistere e, inevitabilmente, queste conoscenze dilatano a dismisura il nostro sapere. Questa ricerca di senso è ciò che caratterizza la vita di coloro che non si accontentano di ciò che conoscono, ma, come esploratori entusiasti e un po' incoscienti, si spingono oltre i luoghi comuni, le acquisite certezze, gli spazi mentali abitualmente frequentati. Qualcuno ama chiamarli antenne della razza, creativi culturali, o semplicemente viandanti alla ricerca dei nuovi saperi, oltre i limiti delle stanze ancora chiuse, in tempi di reclusione, più o meno volontaria, si cerca, per contro, di allargare i propri spazi e si finisce per incontrare vecchi e nuovi ricercatori che, su piani spesso diversi, aprono brecce nei propri recinti difensivi e mettono in comune i nuovi spazi conquistati. Fino a quando? Dall'intervento di Vincenzo Ampolo